Ragazzi stiamo festeggiando Il 28 Ho visto la faccia di su C'è il copriotturatore Non costa 3000 euro questa fotocamera C'è la copertura 28 dicembre, oggi è uscito un video Molto importante per noi Direttamente sul canale dei mates Stiamo mangiando tutti quanti insieme Peccato che JD non è in Italia però Ti pensiamo bro Il video che è uscito sul canale dei mates È il videoclip ufficiale del primo Progetto internazionale dei mates E di JD in particolare La sua prima canzone, per sicurezza trovate il link Al video in descrizione C'è ovviamente sia la canzone sia il videoclip ufficiale Che ha richiesto Ore, ore, ore Ore, ore Ore, ore, ore Ore di tempo, trovate il video Sia sul canale sia nel link qua sotto In descrizione, ma prima Una piccola perla per voi Nel frattempo, fino al 6 gennaio Siete in tempo per pubblicare su Instagram Tantissimi post o screenshot del videoclip Dell'artwork del singolo di Jayden Con l'hashtag this time E potrete partecipare a un'attività con tutti e quattro noi E soprattutto anche col panda In questo momento ovviamente è già in vacanza Perché ha fatto il suo unico lavoro Ed è sciacquarsi le palle Comunque raga Scrinate anche tipo Spotify Magari mettete like al video YouTube Fate qualsiasi attività riguardante this time Ci farà scegliere queste persone Per fare questa attività che è veramente figa ragazzi Facendo perdere l'ultimo Sascha Ma no ma è quando fai i botti che finisce l'evento Il 31 ovviamente staremo molto più attenti a quello che pubblicherete E chi ne pubblica di più ovviamente C'ha un occhio di riguardo E' vero Picciotti Picciotti pubblicati a più non posso Se volete partecipare all'attività con i mates Vi volevo dire che a questo progetto Hanno partecipato anche Selim Farak e Matlac Che sono diciamo due cantanti americani E quindi spero che poi passiate anche dai loro profili Perché ci hanno aiutato in questa folle e pazza idea C'è stato tipo un team di 40-50 persone Che stai facendo? Faccio gli effetti speciali 40-50 persone Ecco perché sono fin di soldi Basta che non lo sbatti sulla videocamera Mortacci 40-50 persone hanno lavorato a questo video per mesi Perché sembra assurdo ma è difficile spiegare quanto lavoro ci sia Ci sia dietro ad un video del genere E niente ragazzi aiutateci perché il collasso è vicino Ci sono degli easter egg nel video Stefanino dice che ne ha scoperto uno Due ne so io Io ne so uno almeno È vero? Io non li sa Non si sa perché Non si può dire Dove non scoprirlo Ci sono degli easter egg quindi se li trovate screenate E magari potrete essere proprio voi quelli che partecipano All'attività del 6 gennaio È un'ottica zoom Se fai così zoom non è che devi avvicinarti come Mr. Bean Bravo E tu Sury che ci racconti di questo videoclip? No Un aneddoto Sury Un aneddoto Un aneddoto Vai Guarda sono molto impegnativo E siamo contenti del risultato Spero che piaccia anche a voi Ma se ancora non è uscita Siamo contenti del risultato Ragazzi sapete chi salutiamo? Salutiamo una certa V Un bacione Grande V Ti vogliamo bene Grazie V Chiude ora il posto Devo andare